No! Zio, ma che fai? Mi chiedevi andare via! Ok? Fattele! Per questo non ho voluto figli. La scatola! No! Oh mio Dio, sono morto! Non sei morto. Ti stai solo separando dalla tua forma fisica. La mia... la mia forma... cosa? Come fai a farlo? Non mi ho idea! Non dovresti riuscirci! È davvero incredibile! È una delle cose più fighe che mi siano mai successe! Ma non lo faccia mai più!